GF VIP, Ignazio Moser pubblica i messaggi intimi con Cecilia Winsuiden Gossip Grande Fratello VIP, Ignazio e Cecilia, pubblicati i messaggi intimi. Ignazio Moser continua a rendere pubblici i momenti della sua vita sentimentale con Cecilia Rodriguez, video, anche dopo il cancelletto Grande Fratello VIP. . In queste ore, infatti, il figlio del famoso ciclista italiano ha pubblicato su Instagram lo screenshot di un SMS intimo che gli ha inviato ieri notte, erano circa le 4 del mattino, la sua amata Cecilia Rodriguez. . Un messaggio d'amore che forse doveva rimanere privato vista l'importanza delle cose che venivano dette dalla bella Cecilia, ma che Ignazio ha voluto rendere pubblico e quindi condividerlo con i suoi 500 mila followers che lo seguono su Instagram. . . GF VIP, il messaggio d'amore di Cecilia e Ignazio finisce su Instagram. Nel dettaglio abbiamo che Cecilia ha inviato un SMS a Ignazio in cui gli diceva, «Sei il mio sogno, giuro» e a quel punto Mosè rispondeva «Tu il mio». . E poi ancora la modella argentina continuava dicendo che Ignazio è tutto quello che ha sempre voluto nella sua vita e che se qualche volta non la amerà lei potrà capire perché Ignazio è davvero tanto per lei. . Di fronte a questo messaggio così forte, però, ecco che Ignazio risponde con un laconico no, mai. . Ma Cecilia non si arrende e prosegue scrivendo «Ma al momento mi godo te, che se il top è a quel punto Ignazio, sebbene fossero del 4 del mattino, capisce che deve sbilanciarsi un po' di più verso l'Argentina» e risponde scrivendo «Non esiste niente meglio di te». . . . . . . . . .